eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi facciamo il punto della situazione sul nuovo call of duty 2020 abbandoniamo un attimo call of duty mobile di cui tornerò a trattare oggi nel pomeriggio mv4 di cui tornerò a parlare domani mattina bene ragazzi ci sono nuove importanti informazioni perché voglio fare il punto della situazione come vi dicevo d'apertura video del presunto call of duty 2020 black ops 5 che praticamente ha parlato di cui ha parlato in questi giorni kotaku e di cui vi ho portato il video domenica voglio fare il punto della situazione di tutto questo articolo perché ci sono veramente tantissimi dettagli bene kotaku afferma che la tray arc tratterà il call of duty 2020 quindi activision ha dato la notizia raven software e la sledgehammer games di non essere più in carica come gli sviluppatori del prossimo code quindi raven software e sledgehammer games faranno da supporto alla tray arc che sarà appunto la software house principale per il call of duty 2020 considerate che black ops 4 non ha la campagna sostituita completamente dalla nuova modalità battle royale da black out bene sledgehammer games e la raven software avevano già sviluppato la campagna stavano sviluppando la campagna di call of duty 2020 quindi questa campagna sarà presa e sarà introdotta appunto nel nuovo call of duty della tray arc quindi è sicuro che troveremo una campagna praticamente all'interno del prossimo code di tray arc e dato che raven software e sledgehammer games stanno sviluppando una campagna sappiamo già quale sarà la tematica secondo kotaku sarebbe ambientata durante la guerra fredda quindi sarà utilizzata questa come campagna nel prossimo call of duty ma non call of duty 2019 ma call of duty 2020 per quanto riguarda il continuo dell'articolo si parla appunto del free to play praticamente abbiamo parlato in questi giorni della possibilità di alcuni componenti gratuiti che potremmo giocare all'interno del presunto modern warfare 4 appunto il titolo dell'infinity world che dovrebbe essere annunciato a fine maggio bene activision dopo i risultati di black ops 4 potrà utilizzare e secondo questo articolo dovrebbe utilizzare questa modalità anche per i futuri call of duty anche quindi per black ops 5 abbiamo visto come su black ops 4 molte volte ci sono state settimane gratuite dove si dava la possibilità di giocare gratuitamente la modalità multiplayer oppure la modalità blackout dando poi la possibilità di acquistarlo in un futuro quindi queste free to play queste modalità free to play potrebbero arrivare come praticamente ha chiacchierato e ha vociferato kotaku anche in mv4 e in black ops 5 ma quando sarà disponibile black ops 5 ovviamente fra ottobre e novembre 2020 e kotaku dice che black ops 5 sarà cross gen quindi sarà disponibile sia sulle console di generazione attuale sia sulle console di prossima generazione quindi call of duty 2020 potrebbe essere uno dei primissimi giochi su playstation 5 perché potrebbe essere molto simile molto verosimile il rilascio di queste nuove console per la fine del 2020 quindi potremmo vedere call of duty portato appunto al massimo per quanto riguarda l'aspetto grafico qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate volevo fare il punto della situazione di tutto quello di cui si è parlato in questi giorni di black ops 5 fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo ad un prossimo video grazie 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 grazie